Mister Ricci si chiude la stagione regolare con una sconfitta per il termo di 2016 non è bastata la reazione nella ripresa contro la UNS? Purtroppo l'approccio è stato sbagliato completamente e l'abbiamo pagato a caro prezzo abbiamo provato a rimontare, secondo tempo ai ragazzi il sacrificio e l'impegno non sono mancati purtroppo però queste partite se le sbagli all'inizio poi succede questo, rischi di perdere e così è stato Si va adesso test e playoff, quale può essere l'obiettivo per voi? Ormai ci stiamo dentro quindi proveremo a fare il miglior risultato possibile con umiltà, con impegno, con sacrificio e vediamo cosa succede Avrete l'opportunità di sfruttare il fattore campo almeno per quanto riguarda la semifinale, è un punto di partenza sicuramente importante Sì sì sì, è il premio per il buon campionato fatto, poi ovviamente le partite si devono comunque giocare quindi sarà sempre una partita difficilissima e molto impegnativa A Esernia avversaria, squadra di qualità che ha fatto bene così come voi in campionato Sì sì, squadra di tutto rispetto, bisogna stare attenti, bisogna fare una grande partita per portare a casa il risultato Grazie Grazie Grazie